14 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza è l'esito di una notte di controlli effettuati dai carabinieri di Como nel capoluogo nei pressi di via del lavoro. Si tratta di un servizio straordinario che viene effettuato con periodicità e che ha coinvolto diverse pattuglie. I controlli vengono effettuati in particolare durante i fine settimana per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. I militari a partire dalla mezzanotte fino alle 5 del mattino hanno bloccato le strade che portano alla rotonda di via del lavoro e hanno incolonnato le auto in arrivo effettuando per ogni conducente un pretest e in caso di esito positivo l'etilometro. Risultato 14 patenti ritirate per lo più a uomini intorno ai 30 anni che dal controllo risulta abbiano superato il limite di concentrazione di alcol nel sangue fissato a 0,5 grammi per litro oltre il quale scattano molte sanzioni. La situazione si aggrava se l'etilometro segna una concentrazione di alcol compresa tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e oltre. Durante i controlli della scorsa notte la massima concentrazione di alcol rilevata è stata di 1,4 grammi quasi il triplo rispetto al limite.